A livello di cultura ovviamente anche qui l'ultimo anno è stato segnato nonostante tutto anche dalla pandemia. Viviamo per fortuna in una realtà talmente piccola, e l'abbiamo notato anche l'anno scorso con la prima edizione della Biennale, dove nonostante tutto riusciamo comunque ad organizzare degli eventi e ad offrire delle cose, anche qui in Bregaglia. Va detto che però naturalmente c'è una grande insicurezza anche in rapporto a quello che ci sarà quest'estate. Non si sa mai come si evolverà la situazione, cosa si può fare e cosa non si può fare. Però anche per quest'estate credo che ci sono diverse iniziative. A dire prima su tutte la mostra di Miriam Khan al Palazzo Castelmur, ma poi anche la Cesa Granda in programma qualcosa, ci sarà il Festival di Teatro nuovamente, ci sarà il Centro dei Giacometti che organizza una mostra. Probabilmente, e mi immagino, spero veramente, che diventi di nuovo una bella estate e che abbiamo la possibilità di usufruire di cultura anche quest'anno. A livello comunale abbiamo anche diverse iniziative, e stiamo lanciando un programma, un progetto per rivitalizzare i crotti di Bondo. In sintesi praticamente si tratta di rimettere in sesto l'ostello della gioventù e di fare dei crotti una specie di punto di ritrovo per la valle, anche centro culturale, un po' se si vuole. Poi c'è Sulla Nossadonna, abbiamo un'iniziativa per restaurare tutte le stradine e il parco archeologico attorno alla Nossadonna. Poi stiamo lavorando anche a quello che in fondo è pendente già da diversi anni, cioè creare un regolamento per la cultura in Bregaglia e poi eventualmente una commissione della cultura che può sostenere tutte le diverse attività culturali che si svolgono in valle.